buongiorno 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 706 venerdì 10 novembre benvenuti in un nuovo appuntamento con good morning milano buongiorno buongiorno mi chiamo lorenzo e questa mattina mi sono svegliato presto tricarico tu sei carico insomma è venerdì veda un po lei come si dice il venerdì come si dice il venerdì thanks god is free e quindi benvenuti bentornati ben tutto ben qui il venerdì su cristian radio appunto come milano ma anche dove ma anche sul sito di milano news e sul profilo youtube di milano news se ci volete vedere ci potete vedere siamo in fm 96.2 in streaming sull'app e sul sito insomma manca solo veramente che venite in vianovara per cercare di di trovarci a bere il caffè dopo e siamo con voi tutta la mattina c'è poco da fare no e cosa ancora più importante 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 se ci volete scrivere scrivere audiare 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 videare videare e fotografando fotografando perché un gerundio perché fotografare un'altra cosa effettivamente non ci potete fotografare ci fotografate voi e mandate a noi oppure fotografate la vostra colazione e la mandate a voi oppure fotografate il vostro gattino e lo mandate a noi oppure ascoltiamo un po di bella musica ascoltiamo un po di bella musica dai si iniziamo così dai il buongiorno si dà con la musica black eyepiece guarantee 2023 l'ultima di black eyepiece qui su cristian radio good morning milano a fra poco black eyepiece guarantee 7 10 minuti qui sempre su cristian radio good morning milano arrivano già i miei messaggi che ci ricordano il problema più grande della giornata devo dire lo sapevamo lo avremmo detto non ci sembrava il caso di aprire già con le brutte notizie o meglio al 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 alberto ci scrive buongiorno amici del mattino e buon weekend oggi giornata difficile per l'ennesimo sciopero del trasporto pubblico e sì perché ricordiamo che oggi 10 novembre il sindacato al cobas ha indetto uno sciopero ormai da diversi giorni appunto per in programma per oggi che coinvolgerà il trasporto pubblico le agitazioni saranno nelle solite fasce orarie quindi le fasce di garanzia sono prima delle 8 45 quindi ci siamo quasi e tra le 15 e le 18 poi il servizio non è garantito e quindi la formuletta considerate maggiori tempi di percorrenza si quindi 8 45 15 rimarranno fermi e poi ricomincia nel pomeriggio ma poi le 18 riparte lo sciopero vedremo appunto alle 8 45 cosa arriverà rimanete collegati con nominato noi all'8 45 vi diamo il dato in diretta grazie al sito atm adesso invece stavo guardando un po di giro anche su trenorde compagnia cantante adesso proprio da leggere i pallini gialli e rossi nella lista delle linee con difficoltà sono sempre molti a molto alti la cremona mantova la codogno cremona ma poi per venire a milano la tirano sondrilecco milano la mantova milano ma anche le linee più vicine a noi la tipo la chiasso como milano ro e poi non capito va chiasso como milano ro già torna in su poi sbirgola sbirgola va bene anche la locarno milano centrale ritardo in questo momento constatiamo comunque cioè constato venendo in redazione che comunque c'è un po più di traffico rispetto al solito beh ovvio classico in maniera empirica così detta 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 male sempre per quanto riguarda la mobilità in questo caso quella sostenibile ricordiamo che tra un quarto d'ora dovrebbe partire in viale monza un'altra iniziativa di proteggimi sostanzialmente i diversi ciclisti si si predisporranno in fila indiana a protezione appunto della ciclabile di viale monza ciclabile come sapete molto critica soprattutto per causata come sostanzialmente stallo di sosta per la doppia fila e quindi siamo già arrivati a diversa questa ormai è penso la quinta sesta volta che proteggimi fa in iniziativa del genere quindi seguiremo è programmato per le 7 e 30 ritrovo capiremo proteggimi dicevamo via le monza 7 e 30 ok chiaramente seguitelo perché insomma non è appunto diciamo non è la prima volta si chiede più protezione appunto per i ciclisti si chiede maggiore sicurezza sulle strade ricordiamo anche la manifestazione di qualche settimana fa in porta romana e ahimè ricordiamo anche tutte le notizie che ogni giorno diamo su feriti o anche morti nelle strade milanesi insomma sempre un po' troppi nel senso che vabbè siamo una grande città capiamo tutto però certe cose forse le abbiamo parlato anche nei giorni scorsi qui con il nostro ospite di lega ambiente si potrebbero mitigare alcuni sistemi si potrebbe fare in modo di limitare alcuni danni parlando di viabilità appunto parlando di treni che sciogliano shop metro che non si stesse partono biciclette che fanno difficoltà a girare nelle città vediamo cosa succede invece nel traffico cittadino insieme a luce verde bogey bogey man bogey man gali insieme a salmo un pezzo mi ero dimenticato ma che insomma non mi dispiace devo dire la verità parlando di circolazione viabilità shop e così criticità sul mantova milano almeno quasi tutti i treni stanno correndo sto correndo stanno stamattina mi mancano le parole viaggiando mi mancano le parole ho perso le parole mi mancano stamattina a me invece comunque 30 minuti di ritardo su tutta la linea sia che tu vada che tu torna tu torna tu vada 30 minuti di ritardo tieni poi anche sulla tirano sondio lecco milano anche lì 16 minuti di ritardo sul treno che è partito poco fa nel senso quello delle 7.05 insomma ci sono un po' dei ritardi adesso poi man mano magari ve li sviscero e ve li leggo quelli un po' più un po' più grossi diciamo anche se ne sono tanti comunque la redazione pullula di ragazzi e ragazze che vengono dalle zone più disparate della Lombardia e sostanzialmente avremo una testimonianza diretta tra pochino di eventuali disagi ecco sul trasporto pubblico ecco perché sono così interessato forse adesso ho capito perché avevo questo interesse sviscerare per vedere i pallini rossi gialli o verdi sulle linee di treno a nord disagi al trasporto pubblico più all'infrastruttura piuttosto che allo stesso vagone è capitato ieri sera ad Affori la fermata della gialla nel nord Milano cosa è successo? succede che appunto nella serata di giovedì 9 novembre un blackout coinvolge la stazione di Affori i passeggeri sono costretti a girare al buio sulle banchine sulle scale della stazione tutto blackout cos'altro? per quanto è la notizia un po' più sostanziosa si sentiamo sapete benissimo ieri sera grande polemica per la nomina del figlio anzi di Geronimo la russa figlio del presidente del senato Ignazio la russa nel CDA del piccolo del piccolo teatro del piccolo teatro grande poi andremo ad approfondire per bene le prime reazioni quelle ha parlato il sindaco e ha detto decisione legittima avrei preferito un curriculum legato al mondo della cultura mentre il movimento 5 stelle la russa arriva dal Laci era un presidente del Laci esatto non so se ancora lo era esatto mentre PD e 5 stelle parlano di Poltronopoli e lui chiaramente me lo merito adesso sto leggendo la Repubblica la Repubblica cita testualmente così capiremo capiremo anche perché le nomine da quello che ho capito sono 6 alcune spettano solo una spetta al ministero certo che vabbè se te ne spetta una il consiglio di amministrazione è di 6 persone per non fare polemica io non avrei nominato il figlio del presidente del senato eh non so sai che è anche il presidente di che cosa lui? sto parlando adesso l'abbiamo appena il presidente di ACI Info Mobility quindi diciamo che Luce Verde è roba anche sua perché Luce Verde è il servizio ACI è il comune di Milano e è la polizia locale quindi è il nostro è oggettivamente così però sì però effettivamente caro Geronimo grazie di Luce Verde grazie anzi è fondamentale questo servizio però forse forse insomma tu parli nel senato ci sono polemiche te lo aspetti non mi sembra il momento per fare operazioni del genere non so non so non so Rolling Stone adesso qui su Crystal Radio alle 7 e 22 questi erano i Rolling Stone e state ascoltando Crystal Radio io sono Fabio Ranfi e io sono Lorenzo Masieri e ci potete ascoltare dalle frequenze 96.2 in FM ma anche in streaming sul sito e sull'app e tutto questo è Good Morning Milano il morning show della vostra mattina il miglior morning show che possa esistere in tutte le città del mondo ho scoperto una cosa caro il mio Masini che se sei da dividere di La Grossa a quel punto ho capito tanto cioè come dire non vuoi essere il miglior morning show del mondo uno che parla solo di Milano ho detto il miglior morning show di tutte le città del mondo quindi c'è tutti i morning show anche lì Good Morning Shanghai Good Morning Ciao Ciao Shanghai ciao Shanghai che fanno ciao ciao Boston tipo no oppure si fanno hi Boston ok Good Morning Bombay se ci mettiamo tutti intorno al tavolo dicono beh ragazzi voi di Good Morning Milano sti migliori ma chi è è Linus il capo il capo di questa cosa chi è Letterman Letterman lui faceva il Tonight Show quindi lui era uno serale diceva la mattina io ascoltavo sempre Good Morning Milano c'era un'intervista posso dire che anche di fronte anche avendo davanti Letterman non riderei a una sua battuta puoi uscire da questo studio immediatamente grazie mille ma come no no mi spiace ma come stai messo dalle mie parti umorismo troppo diverso ma molti italiani la pensano così non è diverso parla solo una lingua diversa forse per quello che lo caprivi no è proprio diverso alla fine dai ma no come determinati talk show italiani che non si riescono a vedere per altre cose cioè però ha fatto storia Letterman che ha fatto storia assolutamente e vabbè vabbè ragazzi se la vi se la vi anzi lo dice anche Achille Lauro a fra poco Ariete mare di guai mare di guai in cui il consiglio comunale continua a riversarsi e oltretutto fuori onda commentavamo forse anche a questo punto un po' inutilmente cioè se non riuscivo a trovare una quadra passate oltre no? di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di ciò che è successo in consiglio comunale appunto per la seconda volta è stato il comune di Milano non è riuscito ad approvare l'ordine del giorno sul conflitto qua c'è scritto tramassi israele in realtà vabbè sul conflitto arabo-israeliano situazione in questo momento arabo-israeliano esatto la prima volta fu in riferimento al fatto di esporre la bandiera e come fai le trattative su un sito di e-commerce si fece bandiera dell'israele no bandiera della palestina di israele no bandiera di israele della pace va bene è andata letteralmente come fossimo al mercato adesso l'ho detta male però è così un consiglio comunale che si è bloccato completamente ancora per l'ennesima volta ieri sera per riuscire a uscire con un documento congiunto in cui si chiedeva che cosa di sostanzialmente prendere una posizione ok sul conflitto e chiaramente ci sono stati molti distinguo principalmente all'interno della maggioranza principalmente all'interno della maggioranza ma sapete benissimo quindi mi immagino come si è divertita la minoranza a vedere tutto questo e dire fate vobis noi siamo qui a vedere lo spettacolo come dire e infatti niente alla fine non si è uscito con nulla di fatto possiamo citare una posizione una di chi è Radio Carlo Monguzzi il capogruppo di Europa Verde pur invitando i colleghi a non rimandare ulteriormente il voto annunciando il suo voto contrario sottolineava che la mozione parla solo della responsabilità di una delle due parti questo è ciò che riferisce Milano Today sulla posizione di Carlo Monguzzi comunque è giusto che i consigli comunali guardino ben oltre il confine dei navigli in questo caso comunque dei confini comunali mi viene anche da dire però scusatemi sarò forse un po' fuori dal mondo in questo momento ma se per due volte bloccate il consiglio comunale per arrivare a questa conclusione arrivare alla conclusione del nulla non riuscite a trovare una quadra andiamo avanti tanto ogni consigliere è libero poi di fare la propria azione fuori dal consiglio mi viene anche da dire sì bello che il consiglio comunale esca con un bel comunicato dica Hamas basta guerra Israele basta bombardamenti mi viene da dire che è simbolico allora mettete una grande bandiera della pace fuori e andiamo avanti però c'è nel senso esatto i lavori in consiglio invitate semmai le comunità israelo e palestinese in consiglio comunale a raccontarsi magari altri gesti simbolici altri gesti simbolici di capire il bloccarsi dei lavori non capisco la maggioranza ha un'idea una parte ha un'idea invita qualcuno a raccontare quell'idea la minoranza ha un'altra idea invita qualcuno invitate 10-15 persone fate un consiglio comunale dedicato alle vittime della guerra mi sembra che ogni volta poi comunque si arrivi sempre ed esclusivamente al Milan contro l'Inter cioè sempre la tifoseria intanto la gente muore sotto le bombe e noi qua a tifare con le bandierine come fosse un grande show perché poi è questo la verità so che sono sempre un po' qualunquista nel dire una cosa del genere da una parte e anacronistico forse dall'altra però è questa la verità dei fatti nel 2023 abbiamo ancora le guerre come fossimo nel 1800 perché questa è la verità la brutta verità dell'essere umano e soprattutto non siamo capaci di scirnere le vittime i carnefici e le conseguenze che si hanno poi nella vita di tutti i giorni analizza monamor qui su questa radio 7 e 42 minuti continuiamo con le notizie che arrivano dai giornali grazie alla rassegna stampa di Lorenzo Masieri parliamo come sempre di sicurezza sulle strade sostanzialmente e di strade di mobilità di mobilità del riferimento al trasporto pubblico perché come sapete come vi abbiamo già raccontato anche come ci ha raccontato al telefono Davide Borghi assessore al municipio 4 continuano le proteste per riattivare la linea 73 linea 73 che ricordiamo sostanzialmente era stata soppressa la scorsa primavera dopo l'entrata in servizio della M4 che più o meno più o meno almeno secondo penso a TM o il comune non lo so a chi spetta la decisione sostanzialmente copriva lo stesso percorso e quindi non c'era più bisogno è una congiunta diciamo un'associazione a delinquere per alcuni per altri invece a risparmiare e a gestire meglio la città da parte di ATM e il comune che decidono sulla base appunto dei nuovi flussi come rimodellare le linee sostanzialmente succede ogni volta che aprono una stazione metropolitana il comitato 22 marzo di Viale Corsica sostanzialmente sarà ascoltato dalla commissione mobilità di comune municipio 4 e l'assemblea è fissata per lunedì 13 quindi sostanzialmente sono riusciti ad avere perlomeno un colloquio con chi di dovere ecco la cosa divertente è che è successo anche in altre situazioni mi viene in mente con la M5 ma anche con l'aumento dei treni sulla M1 così fanno queste robe poi regolarmente i comitati si ingazzano perché hanno ragione e poi alla fine le cose vengono rimesse peggio di prima ma comunque facendo finta che ci sia un contentino speriamo che qui invece riescano a perché la 73 non tornerà mai come prima perché anche solo per principio non torna nessuno i loro passi questo è il dramma della situazione c'è mai nessuno che dica sì scusate abbiamo sbagliato effettivamente ma soprattutto poi una cosa il trasporto sotterraneo non va a sostituire il trasporto di superficie per tantissime ragioni tra cui la mobilità tra cui persone che possiamo dirlo è una cosa che può sembrare assurda ad alcuni ma c'è gente che non prende la metropolitana c'è gente che non se la sente di prendere la metropolitana io non sto parlando solo della vecchietta o di quello che non sa l'austrofobia giovani ma anche gente che preferisce stare in superficie ma posso anche adesso devi anche decidere cioè già non posso girare perché il rischio di essere tirato sotto ogni angolo devo anche decidere di prendere il mezzo che preferisce dimmi ho la 73 lasciamela costa? sì benvenuti nel mondo dei trasporti pubblici cioè non so come dire sicurezza? vuoi parlare di sicurezza? no volevo parlare sì di sicurezza di come si muove in città chi? chi Fabio? chi si muove in città? perché è importante sapere come si muove in città Saturnino? perché è importante comunque si muove in Montorino lui di solito si muove esatto in bicicletta gli chiede il corriere della sera a Milano la amo dice lui l'adoro ma adesso in città usarla è un problema intanto perché è pericoloso e poi te la rubano ok in metro comodissima la metropolitana però ci sono i borseggiatori adesso io non so se effettivamente Saturnino abbia risposto così a tutte le domande però sostanzialmente io leggo ciò che riporta il corriere di Milano Saturnino ricordiamo grande bassista bassista di Giovanotti un grande bassista poi lui uno dei più grandi bassisti italiani in metro appunto comodissima ma ci sono i borseggiatori l'ho provato a mie spese quest'estate che si è trovato senza portacarte vi ricordate sicuramente era uscito sui giornali eccetera insomma come si sposta a Milano in Motorino e poi sostanzialmente racconta di due episodi piccoli incidenti ma da anche una soluzione lievi da anche una soluzione giusto? la soluzione per la sicurezza sul trasporto pubblico è lui dice vorrei riconoscimento facciale contro i furti quando si entra in metro allora Saturno è il tuo Fabietto che ti parla allora io sono un grandissimo fan di Saturnino anche da ex bassista ho il basso autografato da Saturnino quindi insomma parlo per per conoscenza anche della persona minimo diciamo nel senso iperstima grande che ho ma infatti forse il problema non è lui adesso che ci sto pensando mentre sto elaborando il pensiero che voglio esprimere il problema è perché chiamiamo Saturnino a parlare di sicurezza della città nel senso cioè va bene nel senso Saturnino tu sei libero di parlare di tutto quello vuoi e giustamente rispondi e dici quello che vuoi ci mancherebbe ma perché lo stiamo ti rispondo io perché lo stiamo leggendo ecco giusto è questo è la modernità baby è questo il problema forse questa comunicazione per cui cerchi il personaggio che dica beh la detta grossa effettivamente come dicevo prima quando devi dire la grossa è la detta grossa riconoscimento facciale all'ingresso di tutte le stazioni della metropolitana nel mio mondo ideale cioè nel mio mondo ideale cioè ecco teniamo prima che stavamo parlando fuori onda qualora domani chi di dovere dovesse dire dall'anno prossimo riconoscimento facciale sulle metro secondo voi amici di cristal radio 331 7853555 non ci sarà una mezza rivolta popolare a milano io penso di sì io ti dico spererei di sì che vorrebbe dire che noi non siamo completamente asfeffati a qualsiasi cosa ci succede ho paura che invece non succederebbe nulla se non tante incazzature al bar ma poi alla fine andremo lì tanto vuoi mettere che comodità non doverti poter essere ATM non doverti poter paghi con la faccia perché poi a quel punto si può fare così c'è anche un riconoscimento facciale la colleghi al tuo conto Paypal Satisfay o quello che vuoi banca intesa vorrei fare un po' di nomi per far capire che non siamo pagati da nessuno e non siamo al prezzo di nessuno e paghi con la tua faccia la tua faccia diventa il tuo banco Matt pensa che roba e in più ti controllo se fai il pirla ti ribecco ma andiamo avanti con la musica Armin Van Buren Easy to Love insieme a Teddy Swim Easy to Love Armin Van Buren 750 Crystal Radio ben ritrovati appunto qui sempre con noi con le notizie con i giornali abbiamo parlato di sicurezza ripeto non me ne voglia Saturnino cioè io sono anzi ripeto un grandissimo un grandissimo fan di Saturnino mi fanno sorridere i giornali che chiamano a parlare di sicurezza bassista nel senso ok è un cittadino come tutti noi e magari anzi si muove anche di più perché fa le serate vede anche la notte vede anche il giorno al giorno non lo so no si no abbastanza che si svegliano presto la mattina però insomma è una star che può raccontare questa città però boh mi fa un po' ridere che si chiedono soluzioni a gente del genere cioè gente del genere ripeto senza nessuno anzi con una grande stima verso Saturno che io adoro cioè vorrei proprio qui con noi tutte le mattine se il Corriere Milano scrivesse Fabio Ranfi in metro ci sono le borseggiatrici chi lo apre? tutti i nostri fan di Cristo di Milano e anche quelli di ciao ciao Shanghai usciti da usciti dalla nostra cerchia diciamo la cerchia di naviglie grande tolto questo ho capito ho capito però non lo so mi fa sempre un po' da giornalista mi fa tristezza proprio dicendo la verità da appassionato della città mi spiace nel senso che dico io vorrei sentire la Shura Maria che abita in Slinunte questa cosa qui o Ahmed che abita in Loreto mi hai notato adesso faccio questa polemica è importante quando si parla di sicurezza non si intervista mai un estaco comunitario non è che rubano le robe solo a noi nel senso glielo rubano anche a Mohamed di Via Lepadova al mio Chebabaro che sa come è incazzato per la sicurezza ed è turco però no intervisti sempre una certa tipologia di persone torniamo si scusami no no vabbè è un polemico no no giustissimo hai minuto 50 poi spengo tutto basta va bene sicuramente succederà mentre sto parlando mentre vabbè sostanzialmente Fabio secondo te chi è che può offrire e soprattutto dove un canone annuale si di 2,5 milioni di euro per un negozio galleria Vittorio Emanuele esattamente esattamente Valenciaga e De Brigio si sono aggiudicati i negozi messi a bando dal comune di Milano lo scorso agosto due quindi nuovi brand di lusso fra le insegne della galleria Vittorio Emanuele tra le tante insegne di lusso di Vittorio Emanuele cioè anche questa cosa qui non viene mai detta abbastanza i nostri centri città come tutti i centri città di tutte le città del mondo d'Europa da Sofia a Bucharest a Budapest a Londra a Parigi hanno tutti gli stessi negozi nel centro città cioè tu ormai vai in una città europea ah voglio andare a vedere la Romania vai a Bucharest ti ritrovi in questo Vittorio Emanuele sì è questo il dramma l'unica cosa che cambia ogni tanto è che al posto non lo posso dire al posto del McDonald's c'è il Kentucky Fried Chicken o c'è il Burger King è l'unica differenza che trovi se no gli altri ci sono tutti secondo me 2,5 milioni di euro è quello è quello il problema è quello il problema bisogna capire che non si può continuare su queste direzioni ho capito che 2 milioni e mezzo di euro fanno comodo al comune di Milano perché poi quelli sono quasi tutti spazi del comune sono tutti spazi comunali ho capito che faccia comodo però devi anche pensare a cosa stai creando cioè perché i milanesi non conoscono Milano come dice Walter Cherubini ho soprattutto perché i milanesi non vanno più in centro quanto tempo è che non vai a Biazza del Duomo tu? vabbè ho l'università quindi mi è capitato non andare no ok ma perché ci vado perché voglio andarci posso dire l'ho evita come la peste il Duomo di Milano vedi te vedi te vedi te andiamo avanti con la musica comacose Albert on fire 8 e 10 minuti ben ritrovati qui su Crystal Radio ben ritrovati con Good Morning Milano caro mio Lorenzo seconda ora di trasmissione seconda ora di trasmissione e sentite sotto una voce è quella di Simone Lunghi buongiorno Simone buongiorno Fabio sei in questo momento siete tutti su una cargo bike e c'è caricato dietro il fotografo di Milano Andrea Kerchi spero che non sia caduto perché non lo riesco a vedere posso dire non facciamo una battuta lo senti se ce l'hai su lo senti sì lo sento un po' sì sì lo sento un po' iniziamo bravo iniziamo con sorriso ma il tema è molto importante invece dove sei cosa stai facendo il tema è il compleanno della ciclabile di Viale Monza in questo momento c'è una roba allucinante c'è un camion che ha rischiato di tirare sotto una che stava pedalando sulla ciclabile protetta peraltro quindi la situazione è come al solito molto grave è il compleanno l'abbiamo fatta un anno fa e abbiamo deciso di rifarla l'anno scorso tra l'altro non so se vi ricordate era stato l'evento a poche ore dalla tragedia che aveva coinvolto Luca il ragazzo travolto dal tram in via Tito Livio e purtroppo da allora ci sono stati parecchie altre persone che sono cadute nel traffico milanese non solo ciclisti ma anche soprattutto pedoni che attraversarono la strada attraversarono sulle strisce che camminavano sul marciapiede che erano fermi ad aspettare il verde per attraversare la strada quindi insomma c'erano delle delle situazioni che non sono più tollerabili e quindi siamo qui sperando di non doverla più fare perché a Milano ci devono essere meno auto e più rispetto Com'è l'affluenza? E' protetta bene oggi questa ciclabile di Via Le Monza? La Via Le Monza è molto partecipata la protezione ci proviamo chiaramente la protezione da parte di una bicicletta posteggiata sul confine la ciclabile protegge dal mal costume di posteggiarci sopra ma se di fianco sulla corsia una macchina perde il controllo e non va rispettando i limiti la protezione non serve a poco diciamo chiaramente Va bene allora Simone io ti ringrazio ti lascio pedalare ti lascio pedalare grazie a voi anche per quello che state facendo saluto a Cendera Kerchi grazie mille ciao 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 e allora appunto in collegamento ho sentito Simone Lunghi proteggimi stiamo parlando prima proprio iniziativa nata dal basso dell'associazione dei ciclisti da alcune sigle famose nella città per promuovere la mobilità dolce sostenibile e alternativa mi verrebbe dire a questo punto in sicurezza basta morte sulle strade un'altra iniziativa fatta qualche settimana fa in Porta Romana quest'oggi la ciclabile umana così viene chiamata anche su Viale Monza appunto come ci raccontavo viene protetta la ciclabile che esiste in Viale Monza da altri ciclisti che si mettono sul bordo apposta mettono le loro biciclette prostagliate sul bordo della ciclabile per permettere agli altri ciclisti di andare avanti e indietro sulla ciclabile per andare a lavoro per chi deve andare a studiare per muoversi all'interno della città come dovrebbe essere da anche piano regolatore da codice della strada forse solleva il tema che dipingere per terra una linea gialla non vuol dire fare per bene una ciclabile no 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 piccola nota proprio Viale Monza il documentario di Gaber che abbiamo raccontato a un certo punto c'è un'intervista a Gino e Michele che arrivano in motorino insieme ai scooter arrivano allo Zelli che fanno l'intervista e poi si rivede la scena di loro che vanno via andando via Viale Monza ci sono le macchine dentro dove prendono la ciclabile in pieno vanno via in moto sulla ciclabile Amsterdam 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 sì sì uguale quindi vabbè piccola nota a margine Foo Fighters Love Dies Young Foo Fighters Love Dies Young 33178 53555 è arrivato un messaggio bello lungo che però voglio leggervi anzi tra parentesi vado vado così senza rete perché non l'ho letto prima quindi spero non siano insulti per noi lunghi lunghi però un bello messaggio no mi sembra che anzi parliamo un po' di quello che dicevamo diciamo poco fa ci si scrive Katia che ci dice buongiorno a voi e a chi come me vi segue tutti i giorni grazie se siamo il morning show migliore di tutte le città del mondo è perché siamo seguiti da tanti di voi Milano ha un'incidenza molto alta di incidenti anche in virtù della densità di popolazione e del gran numero di spostamenti quello sicuramente effettivamente è un grosso problema bisognerebbe quindi maggiormente promuovere gli spostamenti sostenibili certo ma mi trovo anche in disaccordo circa limitazione continua la circolazione dei veicoli e questo è un altro un altro problema e alla presenza di aree restrittive che non consentono più ai milanesi di vivere serenamente giustamente dice effettivamente è quello che diciamo un po' questa guerra tra gli uni e gli altri ma che sempre bisogna arrivare a fare la contraposizione non si riesce a far vivere invece come diceva il nostro ospite del legambiente dell'altro ieri che ci diceva ogni luogo ogni veicolo dovrebbe avere il suo luogo luoghi diversi luoghi diversi per veicoli diversi dice quindi dice poi ovviamente Katia concludi dicendo che è un punto di vista del tutto personale visto che quando rientro a casa per le festività sono confinate nell'Interland per via del veicolo lei non abita a Milano torna qui per le festività dice però poi quando non torno sono confinate in Milano perché non posso muovere non posso andare effettivamente sono problemi soprattutto nel momento in cui non c'è una reale alternativa al mezzo privato perché poi è questo il problema anche perché pigiare l'acceleratore sulla transizione ecologica ciò non vuol dire che quelli che non possono debbano restare indietro quello è il grande tema questo è il grande tema e grande anche sono gli Aerosmith con la prossima canzone I Don't Wanna Miss I Think sempre qui 8 e 20 Crystal Radio poi torniamo qui con ospiti insomma abbiamo un po' di cose da raccontarvi ma ci sentiamo fra pochissimo Aerosmith Tommaso Tommaso hai un minuto per spiegarci perché te abbiamo chiamato cioè nel senso so che è strana come domanda ma di cosa parleremo dopo la pausa? Adesso è un progetto di mediattivismo nel senso adesso fa sensibilizzazione su alcuni temi primo tra tutti l'ascensore sociale che in Italia è bloccato è rotto non si limita però a fare sensibilizzazione costruisce delle proposte e attorno alle proposte mette insieme costruisce una comunità di persone tra le proposte che abbiamo fatto siamo partiti da poco siamo partiti a giugno di quest'anno tra le proposte che abbiamo fatto c'è una proposta relativa al salario minimo milanese sul modello di Londra capito salario minimo milanese questo è il tema che troveremo fra pochissimo qui insieme a Tommaso Greco quindi rimanete collegati con noi perché adesso piccola pausa velocissima due canzoni e poi torniamo qui per parlare di un tema davvero importante che ha fatto parlare tanto e su cui anche il sindaco si è espresso e quindi poi ne chi parliamo fra poco a fra poco 8.33 su Crystal Radio se siete abitui e lo siete sicuramente della nostra trasmissione sentirete che è cambiata la base perché cambia la base di costo della vita nella città di Milano proposte eccetera tutto questo grazie appunto a questo come lo possiamo chiamare movimento cos'è adesso Tommaso come lo possiamo definire adesso è un movimento di proposta ed è un progetto di attivismo ma è bellissimo un movimento di proposta perché sono un movimento di protesta si dice invece è bello un movimento di proposta complimenti complimenti Tommaso ci vuole un po' di proattività in questo maledetto mondo la nostra ambizione è dare il nostro contributo a cambiare le cose quindi individuare cosa non va è solo una parte del ragionamento l'altra parte è capire come si può aggiustare come si possono risolvere i problemi e allora il tema è caldo nel senso che il tema è quello del caro vita della difficoltà di molti di riuscire a vivere in una città come Milano ma dall'altra parte anche la necessità però di dover vivere in una città come Milano perché ti dà certe opportunità avete fatto una proposta molto interessante che appunto dicevo anche il sindaco Sala ha raccolto dicendo insomma un'idea interessante ha detto lui no giusto com'è che è andata e qual è questa proposta allora noi siamo partiti da un dato piuttosto semplice Milano è una città costosa che nell'ultimo anno anche per la ondata inflazionistica ha colpito tutta quanta l'Italia e a Milano è stata particolarmente aggressiva perché ha colpito più Milano di tante altre realtà è diventata una città ancora più costosa gli stipendi invece sono sostanzialmente fermi o quantomeno sono fermi per moltissimi quindi in realtà Milano è una città con un cattivo rapporto tra prezzi e stipendi quando si parla di affitti la cosa è plastica è molto chiara nel senso che abbiamo gli affitti in linea euro più euro meno con le grandi città europee particolare relativamente agli affitti Milano è grosso modo a livello di Monaco di Baviera ma è sufficiente fare un giro sui tantissimi annunci di lavoro che ci sono per vedere che gli stipendi non sono affatto in linea con gli stipendi di Monaco di Baviera quindi in realtà c'è un tema di costi a Milano ma c'è soprattutto dal nostro punto di vista un tema di stipendi e quindi abbiamo elaborato una proposta partendo da quello che in realtà nel mondo si fa già perché la proposta di salario minimo milanese in realtà importa traduce adatta la realtà milanese quanto succede a Londra a Londra esiste uno strumento di salario minimo che è diverso spiegaci bene come funziona questa cosa di Londra perché tutti dicono come è il modello Londra però poi ti posso tirare un attimo l'orecchia ai miei colleghi poi non lo spiegano e non dice ma cos'è sto modello Londra guidare dalla parte dall'altra parte della strada no c'è un modello ben preciso come funziona Londra? Partiamo con un dato nelle scorse settimane 130 mila lavoratori a Londra hanno ricevuto un aumento di stipendio grazie al London Living Wage per salario minimo londinese è un numero importante ed è dovuto in realtà nel momento in cui si racconta il meccanismo diventa un numero diciamo diventa abbastanza comprensibile perché ci siano numeri di questo tipo il salario minimo londinese funziona così intanto partiamo col dire che nel Regno Unito esiste un salario minimo nazionale cosa che in Italia non c'è ma questo insomma entriamo in un altro dibattito a Londra hanno deciso però hanno constatato più che deciso che il salario minimo nazionale non è non è non è adeguato a vivere defocosamente dignitosamente a Londra quindi hanno sentito la necessità di fare una commissione indipendente che elabora su base annuale ed è qui la ragione per cui c'è stato aumento nelle scorse settimane il parametro cioè lo stipendio minimo per poter vivere bene per poter vivere dignitosamente a Londra questa commissione elabora il parametro dopodiché le aziende decidono di adeguarsi a questo parametro ottenendo in cambio una certificazione decidono nel senso che ovviamente il comune di Londra non ha il potere di poter imporre questo parametro ma le aziende hanno deciso in moltissime e continua ad aumentare il numero di aziende che aderiscono hanno deciso di aderire perché ci sono dei vantaggi i vantaggi sono intanto vantaggi reputazionali perché nel momento in cui tutti i cittadini sanno qual è il parametro per poter vivere a Londra se tu fermi una persona per strada e gli chiedi poi lo stipendio minimo per poter vivere a Milano questa persona ovviamente non lo sa si riferirà alla sua esperienza probabilmente ci metterà un po' a dare una risposta e probabilmente sarà una risposta o troppo bassa o troppo alta mentre lì invece c'è un parametro che tutti conoscono perché poi viene pubblicato sui giornali perché è noto quindi già c'è questa differenza con Milano a Londra è molto chiaro quanto è il minimo per poter vivere a Londra e la seconda cosa è che le aziende che adoperano il salario minimo londinese hanno una certificazione che è molto simile per capirci a quella che abbiamo noi per le botteghe storiche c'è proprio un simbolo che certifica ad esempio negli esercizi commerciali che quell'esercizio sta adoperando il salario minimo il London Living Wage gli altri vantaggi sono nell'attrazione del talento perché Londra è una città estremamente competitiva ed è chiaro che nel momento in cui negli annunci di lavoro c'è la possibilità di esibire questo tipo di simbolo c'è una attività maggiore poi a Londra c'è anche il tema delle grandi dimissioni che a Milano abbiamo vissuto meno ma se ne è parlato se ne è parlato ugualmente e le aziende che applicano il salario minimo londinese sono in grado sono state in grado questa è proprio una questione di studi statistici di resistere meglio e di più rispetto alle aziende che viceversa non l'hanno applicato diciamoci che se io lavoro in un'azienda del genere ci penso un attimo di più ad andarmene perché dico insomma ho una garanzia di avere uno stipendio in linea con la mia città che mi permetta appunto di vivere in questa città interessante anche questo fattore beh va considerato che in moltissimi paesi il tema delle grandi dimissioni post covid è stato un tema non solo sociologicamente ma soprattutto numericamente molto consistente in Italia questo è successo meno a Milano forse un po' di più che nel resto d'Italia è successo meno per tante ragioni in parte culturali in parte strutturali del nostro mondo del lavoro però di fatto è successo meno a Londra questo fatto c'è e l'altro grande vantaggio che hanno le aziende che aderiscono è il rapporto con l'amministrazione perché il sindaco di Londra Sadik Khan che è un sindaco laborista è particolarmente sensibile al tema del salario minimo londinese del London Living Wage e si è offerto di fare da testimonial ci sono dei video io trovo strepitosi del sindaco di Londra che va in una piccola caffetteria che ha aderito al salario minimo a promuovere l'attività che ha aderito quindi in realtà è un modo può darsi che faccia sorridere però immaginatevi per una piccolissima attività magari una caffetteria di portiere se arrivasse il sindaco sala la domanda è d'obbligo Tommaso e l'amministrazione milanese in questo stavo pensando che al massimo che abbiamo visto per adesso è sala che fa da testimonial i club dog quindi effettivamente non è ancora quella cosa ti chiedo allora di questa domanda che è fondamentale rifalla un attimo Lorenzo e quindi trasliamo l'amministrazione milanese come si comporta lo scopriamo subito dopo questa pausa una canzone un altro modo per riuscire a vivere a Milano è vendere casa magari potresti facile andartene via non è neanche poi così semplice in realtà lo vedremo Tommaso Greco in linea con noi di adesso e la domanda che ci eravamo posti prima della pausa qual era? sì perché abbiamo parlato appunto della visita simbolica o meno comunque del sindaco di Londra la piccola attività che aderiva al progetto diciamo invece ti chiedo Tommaso l'amministrazione milanese come ha accolto diciamo la vostra proposta di salario minimo cittadino questo no? allora diciamo intanto partiamo da un altro presupposto a Milano il modello londinese si potrebbe adattare senza necessità di di interventi da parte del governo nazionale nel senso che il comune potrebbe convocare una commissione a dire la verità una commissione esiste già che è il tavolo per il lavoro del comune di Milano e potrebbe essere lo spazio dove le parti sociali sindacati associazioni autoriali coinvolgendo possibilmente anche i latinei potrebbero elaborare il parametro minimo per poter ridurre a Milano quindi in realtà è una misura concreta perché semplice da mettere in campo non ha bisogno di particolari finanziamenti non ha bisogno del coinvolgimento da parte di altre realtà come possono essere regione o governo nazionale a Milano anziché naturalmente ci potrebbero essere delle differenze con Londra relativamente al fatto che si potrebbero valorizzare le aziende che decidono di adeguarsi ai parametri decisi da questa commissione al salario minimo milanese ad esempio in occasione delle week da parte della politica del dibattito politico cittadino anche da parte del dibattito non solo politico anche da parte del dibattito economico cittadino devo dire la proposta ha suscitato molte reazioni non è una proposta che ha lasciato indifferenti e questo secondo noi è un primo risultato c'è il professore del conte presidente di affol che si è schierato a favore della proposta sin da subito c'è l'assessore della casa Pierfrancesco Maran che si è detto favorevole anzi si è detto particolarmente favorevole e ha ribadito la sua posizione di disponibilità a ragionare su questa proposta ci sono altri interpreti della politica cittadina che viceversa si sono dimostrati più freddi come ad esempio l'assessore del lavoro Alessia Cappello il sindaco Sala ha dichiarato che il tema che approfondire e trovare una soluzione sul tema degli stipendi è qualcosa di cui avrebbe discusso con le parti sociali diciamo che poi ci sono stati anche altri autorevoli punti di vista ad esempio quello del professor Marco Lonardi della Bocconi che ha detto si ma servirebbe una legge insomma la sua tecnicalità Tommaso invece le aziende come hanno rispondo perché immagino che tu avrete parlato anche con le aziende come risponde il mondo dell'imprenditoria a questa proposta per quello che tu puoi aver compreso il mondo delle aziende in realtà va detto che intanto a Milano ci sono in parte le aziende che applicano il servo minimo londinese a Milano ci sono multinazionali che sono presenti anche a Londra e che a Londra applicano il salario minimo londinese quindi anche se non abbiamo parlato direttamente con loro mi viene semplice immaginare che ci sia quantomeno una disponibilità a ragionare sul salario minimo milanese dal punto di vista delle associazioni delle imprese delle associazioni senatoriali ne abbiamo parlato un po' con tutti devo dire che il tema del carovita a Milano è particolarmente sentito poi su quale sia lo strumento da adoperare naturalmente ci sono punti di vista diversi c'è chi investirebbe di più sulla contrattazione territoriale sulla contrattazione di secondo livello io credo una cosa piuttosto semplice siccome stiamo tutti d'accordo che c'è un problema di cattivo rapporto tra costo della vita e stipendi sicuramente il salario minimo londinese la versione milanese del salario minimo londinese è un modello attuabile è un modello semplice da realizzare però chi ha delle riserve chi ha dei dubbi che sono assolutamente legittimi anzi sono un contributo alla discussione ma poi dovrebbe farsi carico di fare una controproposta nel senso a fronte di un problema così grande e così sentito da chi lavora a Milano e dai milanesi a questo punto se la proposta sul salario minimo milanese è una proposta che per ragioni diverse non convince o convince poco si ritiene che non sia il canale migliore per arrivare a riequilibrare il rapporto tra prezzi e stipendi allora a questo punto chi pensa così dovrebbe dire benissimo la controproposta è quest'altra è passato circa un mese da quando abbiamo fatto la proposta ci sono stati come dicevo prima favorevoli e contrari non mi pare che dai contrari vorrei sbagliarmi ma non mi pare che dai contrari siano arrivate proposte in senso che vadano nella stessa direzione io mi concentrei sul fatto che c'è un problema enorme a Milano poi si diceva una volta non importa che il gatto sia bianco sia negro l'importante è che prenda il topo e chi non è a favore del salario minimo milanese ripeto faccia una proposta tu dici anche circostanziate come sono state fatte poi però deve assumersi onere di una sfiducia costruttiva cioè ci dica come arriviamo a ribilanciare il rapporto tra stipendi e posto della vita a Milano se dovessi quantificare questo sbilanciamento come lo quantificheresti cioè per farcelo capire proprio sai che noi siamo un po' tonti a volte a capire le cose un po' astrate abbiamo bisogno di concretamente capire cioè questo sbilanciamento tu lo potresti rappresentare come in che maniera beh diciamo la dimensione numerica di questo sbilanciamento è quanto incide l'affitto sullo stipendio gli affitti a Milano vanno ben oltre il 50% in media di peso sullo stipendio quando si considera un peso il range di un peso accettabile tra il 28 e il 35% adesso questo dipende poi dagli studi però diciamo a Milano siamo molto oltre poi si parla sempre di spese mediane perché naturalmente non tutti gli affitti sono uguali non tutti i mutui sono uguali chi aveva il mutuo variabile ad esempio in quest'anno ha visto crescere notevolmente i costi non credo che abbia visto crescere altrettanto gli stipendi se ha visto la crescita del suo stipendio è buon per lui ma non riguarda era solo merito merito sul campo nel caso è successo tu dici non è dovuto alla contingenza fare il conto in tasca a tutti i milanesi è complicato però va detto che a Milano i costi sono io poi aggiungo Tommaso è già una città molto costosa i dati istat quindi ci dicono che nell'ultimo anno i costi sono aumentati come nel resto d'Italia e più che nel resto d'Italia complessivamente quindi è una città dove il rapporto già tra costo della vita e stipendi non era favorevole a chi ci lavora e che oggi è ancora peggiore in più ricordiamo che anche in più ve lo dite ricordiamo anche che le cifre spesso riprovano ben lette perché gli stipendi medi a Milano sono ovviamente altissimi visto che abbiamo qui le sedi di tantissime aziende in cui ci risiedono dentro anche dirigenti e grandi imprenditori quindi insomma bisogna capire quello invece giustamente bisogna poi guardare la classe più bassa la classe media che non esiste più ma in senso quella parte lì e soprattutto i lavoratori in entrata che hanno veramente tantissime difficoltà nel vivere in una città così ti farei debunking su una notizia che gira spessissimo intanto ci sono questi titoli di giornale che dicono a Milano il salario medio è del 20-30% è infatti è vero dal punto di vista strettamente numerico però a Milano ci sono come dicevi giustamente tu i grandi centri direzionali dove ci sono manager ci sono quadri è stato calcolato che il salario medio di un impiegato a Milano sia appena il 13% sopra il dato nazionale che significa ovviamente un costo della vita che è ben superiore al 13% in più e per un operaio la differenza sia anche minore anzi sia decisamente minore quindi in realtà quando parliamo di salari minimi è chiaro che non parliamo di quadri e dirigenti parliamo di chi ha un lavoro da impiegato o da operaio e con il suo stipendio fa molta fatica arriva alla fine del mese facendo dei grandi sacrifici ecco l'idea è che chi lavora a Milano debba poter vivere a Milano senza fare grandi sacrifici l'hai detto all'inizio quel famoso ascensore che ormai ahimè si è rotto ed è rimasto fermo tra un piano e l'altro e non va nessuno giù la scala mobile una volta si chiamava anche quella ormai da tutti i gradini che si stanno sgretolati Tommaso ultimissimo un secondo è velocissimo darci le coordinate per approfondire il tema sui vostri canali dove possiamo trovarvi per ora siamo su Instagram adesso.news lanceremo nuovi canali nuovi strumenti nei prossimi mesi per adesso trovate adesso su Instagram all'indirizzo adesso.news quando li lanci ovviamente è facile sapere perché ne riparleremo qua giusto Lorenzo? assolutamente e allora grazie mille Tommaso grazie davvero grazie a voi a presto